Posso continuare per favore? Dopo lei può permettermi di continuare? Sicuramente sono stata molto portavoce. Allora, va bene generale, la capisco. Adesso lei abbia la compiacenza, abbia la compiacenza di farci parlare. E non deve stare in un Parlamento di non combattati, io la devo disperare per il resto, per la situazione di potere politico.